Ultima possibilità per l'FC Alcamo di ottenere il salto in promozione. La squadra di Cosimo Scrivano, dopo aver perduto i play-off, potrà ugualmente centrare l'obiettivo ma attraverso la Coppa Sicilia, trofeo che mette in palio proprio l'ultimo posto utile per il campionato di promozione 2024-2025. I bianconeri palla al centro, domani alle ore 16 al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo riceveranno i catanesi della Santa Venerina. Gara di ritorno ovviamente a campi invertiti fra una settimana. L'undicettineo è ancora in corsa nei play-off, ha vinto infatti quelli del Girone D e dovrà adesso giocare gli spareggi decisivi per l'ammissione nel campionato superiore. Chiaro quindi che però non potrà regalare nulla visto che la semifinale di Coppa Sicilia si giocherà prima degli spareggi. E passiamo al biliardo, quarti di finale nel pomeriggio, semifinali domattina e poi alle 14, finalina per il terzo e quarto posto e a seguire la finalissima che assegnerà il titolo italiano a squadre di Carambola Tresponde, campione uscente il Billard Café, team che vede in gara l'alcamese Francesco Orlando. Quest'anno è un po' dura rispetto a un anno fa perché sia la Biglia che si sono molto rinforzati perché hanno preso il Turco, Ashesh e poi c'è una bellissima squadra forte, veramente forte, formata dalla squadra di Catania, Salvo Papa, Bitetti, Alfio Basile e Domenico Minciardi. Sì, hanno tanta tanta esperienza e sono fortissimi. Penso che quest'anno è molto dura però combatteremo per vincere di nuovo il titolo. La Carambola è uno sport che non ha età. Nella turno inaugurale per esempio Notarrigo che non è un giovanissimo ha fatto sudare il mostro Marco Zanetti. Sì, ieri Notarrigo mi ha stupito. Lui è un giocatore anche di un'esperienza infinita, ma non solo di esperienza infinita, ha un carattere su biliardo e stratosferico. È una persona fortissima, una persona che da sempre ha portato risultati e è un giocatore molto tosto. Quindi è uno sport per tutti, dai giovanissimi fino agli ottantenni. Eh sì, ci sono anche tanti giovani che stanno crescendo. Peccato che non c'è Alessio D'Agata comunque perché è in Corea. Le finali domenica, terzo e quarto posto nel primissimo pomeriggio, quella che assegna il titolo dopo. L'obiettivo vostro è almeno arrivare in finale? L'obiettivo nostro è sempre vincere il titolo e riconfermare. Ma arrivare in finale è già un traguardo perché ci qualifichiamo per la Coppa Europa in Portogallo che sarà dal 25 giugno al 30 giugno. Tu sei tra i migliori giocatori d'Italia, però so che continui a formarti e anche a rubare qualche segreto a Zanetti. Sì, diciamo sono sempre tra i primi sei in Italia. Ovviamente nell'ultimo periodo sono stato molto impegnato lavorativamente parlando, però ce la metto sempre tutto. I risultati finora ottenuti? Cambiato regionale sono arrivato quinto, cambiato italiano sono arrivato sesto l'anno scorso e ora speriamo di nuovo che vincere il titolo perché ci tengo tantissimo, anche perché se vingo il titolo di nuovo ad Alchemon è un'emozione assurda.